Siamo qui con un altro giocatore dei Gallipolini, Gianni Coppola. Gianni, questa manifestazione come vi siete presentati? Ma a dire il vero loro hanno giocato veramente una gran bella manifestazione, io sto rientrando adesso da un infortunio, spero di dare anche io una mano per vincere questa finale, però diciamo che stiamo facendo un bel percorso dall'anno scorso ad adesso a giocare in questo campo qua. Ma tu come calciatore di questa squadra immaginavi che quest'anno arrivavi in finale dei Champions, la prima competizione che si fa a Maddaloni, è un evento nuovo perché ormai lo sappiamo, tutti i tornei che si fanno si organizzano, però ci vuole un po' di tocco a queste manifestazioni. Voi veramente ci puntavate a questa competizione? Diciamo che di solito quando uno inizia a fare un torneo cerca sempre di arrivare fino in fondo, poi giustamente strada facendo uno si pone un obiettivo per volta, un ostacolo per volta e siamo arrivati qui, sono arrivati qui perché hanno giocato loro, quindi complimenti ai miei amici. Mi fa piacere dal tuo infortunio che hai recuperato, Giovanni, puoi dare una mano a questi ragazzi stasera? Io spero di sì, sono qui per questo, se riesco a giocare anche qualche minuto giustamente cerco di dare il massimo per questa squadra. In bocca al lupo per i Gallipolini. Grazie.